Salve a tutti, di tutto questo non è un video sulle scie chimiche, è un video sulla terra piatta. Anche se i terrapiattisti spesso credono anche alle scie chimiche, questo video non riguarda le scie chimiche. I terrapiattisti credono che dal momento in cui la terra è piatta le scie bianche che lasciano gli aerei non possono curvare, e mettono su internet delle immagini di scie bianche dietro gli aerei che non curvano. Finalmente ho avuto l'occasione di filmare un aereo che lascia una scie bianca lungo tutto il cielo da sud-est a nord-est, da una parte all'altra, si vede chiaramente che la scia bianca è curva. Ho fatto questi video in fretta per non sembrare scemo per strada, per evitare di essere investito dalle macchine, perché il sole stava tramontando e perché la scia bianca si è dissolta velocemente nel cielo, ho cercato di riprendere da più angolature, di far vedere che effettivamente l'aereo curva e che la scia andava da parte a parte. C'erano in mezzo delle case e mi sono spostato più volte e purtroppo non ho potuto avere una visuale migliore, ho fatto il meglio che poterlo. Altre volte mi è capitato di vedere un aereo che lasciava una simile scia bianca, ma non ho avuto l'opportunità di filmare oppure c'era mal tempo e ho preferito evitare, perché avrebbero potuto contestarmi dicendo che la scia non apparteneva allo stesso aereo. Oltre critiche, spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima! Ora vi lascio guardare le altre immagini. Vi saluto, alla prossima! Grazie! 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 Grazie!